Il presidente della regione Marco Marsilio ha deciso di revocare la zona rossa nella Valfino, un'importante notizia che i sindaci della vallata attendevano soprattutto dopo l'andamento positivo registrato negli ultimi giorni, con la continua discesa di contagi e l'aumento dei guariti, un trend che lascia a ben sperare. A Castiglione Messerraimondo il sindaco proprio questa mattina ha ricevuto la notizia che aspettava da tempo, quella di essere guarito dal coronavirus. La situazione a Castiglione Messerraimondo è in netto miglioramento e ogni giorno abbiamo nuovi guariti, abbiamo superato ormai i 10 guariti e finalmente anch'io ho appena avuto la notizia di essere negativo, quindi a breve potrò tornare sul campo. Non ho mai smesso di lavorare per il comune, per le esigenze dei miei cittadini, ma sicuramente adesso potrò tornare in prima linea stando sul territorio fisicamente. I dati degli ultimi giorni sono positivi, con un numero di guariti in crescita, situazione che trasmette importanti segnali di speranza e ripartenza, con l'auspicio che a breve si possa tornare a vivere una normale quotidianità.